buongiorno eccoci con la storia di oggi caro papà con amore in ogni pagina ho un papa molto speciale che quando russa sembra un temporale mi fa il solletico mi fa saltare si va a nascondere dopo riappare con lui il giorno nasce in allegria la sua colazione è il meglio che ci sia mi fa scoprire quanto è bello il mondo e sulla duna facciamo un giro tondo dai pendici lasciamo scivolare e dopo la discesa sono pronto per volare con gli attrezzi ci sa proprio fare e insieme ce ne andiamo a pedalare ha sempre un minuto per giocare tra bambole robot e carte da impilare e quando la sera si avvicina prepara il fuoco come fosse in cucina insieme mangiamo pranzetti prelibati poi ci laviamo i denti un po' assonnati riesce sempre a farmi divertire e anche con poco mi sa stupire adesso le stelle brillano nel blu caro papà non ti lascerei mai più fine fine ok